Benvenuti su ricette della nonna. Oggi prepariamo la quiche col prosciutto cotto. Ingredienti sono prosciutto cotto a fette, piselli, porri tagliati a rondelle, provola tagliata a dadini, formaggio grana grattugiato, uovo, sale, olio extravergine di oliva, pepe e una confezione di pasta sfoglia rotonda. Versiamo l'olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e uniamo il porro tagliato a rondelle e lo facciamo insaporire per qualche minuto. Quindi uniamo i piselli, condiamo con il sale e lasciamo cuocere per una decina di minuti a fiamma bassa. Mentre aspettiamo che i porri e i piselli arrivino a cottura, rompiamo l'uovo in una terrina, lo condiamo con il pepe e il sale e lo sbattiamo. Quindi aggiungiamo il grana grattugiato e mescoliamo. Infine uniamo la provola, mescoliamo e lasciamo riposare qualche minuto. Ho srotolato la pasta sfoglia e l'ho sistemata all'interno di una pirofila con la sua carta da forno. Adesso sul fondo gli metto un paio di fette di prosciutto cotto. I dieci minuti sono trascorsi e il porro e i piselli sono pronti. Adesso li trasferiamo nella ciotola con l'uovo e il formaggio e mescoliamo. Adesso versiamo il composto che abbiamo ottenuto dentro nella pasta sfoglia sopra le pezze di prosciutto cotto. E lo livelliamo, sistemandolo bene anche intorno ai bordi. Adesso ricopriamo con le fette di prosciutto cotto cercando di drappeggiarle un attimino in modo che non siano tirate. Infine non ci resta che ripiegare i lembi della pasta sfoglia verso l'interno della torta. Poi andiamo ad infurnare a 180 gradi. Dopo 35 minuti di cottura la nostra profumatissima quiche è pronta. Adesso la lasciamo riposare 5 minuti e poi la trasferiamo sul piatto di portata. Ho trasferito la quiche sul piatto di portata. Adesso la servo in tavola e la gustiamo. Buon appetito e alla prossima ricetta su ricette della nonna con Anna Rosa.